ragazze per stasera sulla mia tavola è previsto un piatto buono un piatto ricco di proteine un bel tocco di carne e poi appunto per contorno farò un po di verdure zucchine pomodori vediamo patate secondo voi che tocco di carne sarà vediamo se riuscite a capire che tocco di carne sarà che tocco di carne sarà mai che tocco di carne sarà mai che sarà mai maia maia meglio che ti nascondi dove sei meglio che ti nascondi perché io ti avevo fatto questa promessa che se mi sporcavi i divani puliti puliti ti facevo al forno e c'è questo divano tutto pieno di macchioline che cos'hai da dire a tua discolpa maia non fare finta di niente guardami amore allora chi è stata a fare tutte quelle macchioline si faccia al forno stasera ma ne hai carne da mangiare ora la regalo questa gattina chi la vuole questa bimba allora e niente ragazze nonostante i miei sforzi come vedete di tenere le cose coperte non c'è niente da fare appena rimane un pochino scoperto c'è il suo tocco io per ovviare a questo problema ecco avete visti è andata via allora prendo uno di questi dischetti che sono quelli dell'idl che io compro per struccarmi sono belli sono grandi metto acqua e poi metto un poco di candeggina la poso sopra la macchia la macchiolina la mantengo il tempo che ho parlato con voi quando sarà stato un minuto e praticamente si toglie vedete qua ce n'è un'altra piccola piccola e che devo fare purtroppo è così non c'è niente da fare allora ragazze vi faccio vedere i lampadari quanto sono belli almeno a me piacciono tantissimo guardate ora siamo indecisi per quello che riguarda la luce perché questa che questa è una lampadina che ha comprato stamattina e risulta essere una luce calda mentre quella forse è luce fredda io devo dire che mi piacciono tutte e due mi piacciono tutte e due le luci però la luce naturale è sempre quella che preferisco che non è né calda né fredda quindi ora lo chef è sceso e dovevo andare a comprare un'altra appunto una lampadina di luce naturale e confrontiamo vediamo quale ci piace di più e quindi poi sarà luce naturale ma vi devo dire che questa luce bella calda non mi dispiace e non mi dispiace neanche questa io di questa non sono sicura che è una luce fredda forse questa è luce naturale non lo so ragazze dobbiamo appunto confrontarla appena alla porta perché la luce è proprio quella che preferiamo noi sempre in ogni caso e la luce naturale che è una via di mezzo tra la luce calda e la luce fredda però torno a ribadire che anche questa non mi dispiace e non mi dispiace neanche questa va bene tra un dispiacere e un altro io l'acqua pronta perché devo passare lo straccio in bagno perché stamattina non sono arrivata a farlo ho fatto il bagno ma non ci ho passato lo straccio uguale uguale precisa all'altra volta e poi lo devo passare pure qua nella zona zona cucina stasera viene mio figlio a cena però viene solo marco appunto alessia no perché alessia si stava facendo una ricetta che poi io voglio rifare poi va bene non vi dico che cos'è niente di eccezionale però poi siccome appunto la voglio fare poi ve la faccio vedere direttamente a che sono a che sono da queste parti finalmente ho chiuso l'acqua ora stavo spazzando questa stanzetta a che sono qua vi faccio vedere la meraviglia perché stamattina non ve l'ho fatto vedere guardate i colori ragazze ma guardate i colori guardate cioè lì in fondo è rosso e poi va si va sbiadendo guardate che mare si vede ustica di nuovo mi sento sulla nave mi sento sulla nave perché poi in realtà ragazze voi vedete voi vedete questa striscetta giusto io invece ne vedo una striscia enorme cioè io vedo un infinito di mare e quindi alcune volte mi sento sulla nave meraviglioso ragazze finalmente vi faccio vedere lampadari montati abbiamo optato per questa luce questa è una luce naturale non è né calda né fredda sapete le differenze allora la luce calda è quella come dire giallastra la luce fredda è quella da neon questa è luce naturale che diciamo è quella che molta gente preferisce quindi abbiamo optato per questa ragazze ma guardate che meraviglia a me piacciono da morire questi lampadari ragazze mi piacciono da morire li vedevo sempre su instagram nelle pagine con quelle case bellissime vedevo questi lampadari e non riuscivo a capire quali fossero di che materiale fosse e poi appunto ho scoperto che erano ikea e quindi c'era diciamo nei miei obiettivi c'era quello appunto di comprare questi lampadari che tra l'altro ho detto a mio marito meno male che mi piacciono le cose che costano poco perché io quando mi fisso in una cosa questi sono costati 20 euro più 10 di filo e accessori vari quindi 30 euro 4 euro di lampadina perché una lampadina led quindi ragazze 35 euro ma se questi lampadari fossero costati 100 200 euro io li avrei pagati questa cifra perché se mi piacciono io sempre nei limiti delle mie possibilità spendo ok ragazze quindi vi faccio ve li faccio vedere allora il io non riuscivo neanche a capire come farli diventare così ieri ho visto un video su youtube praticamente si devono accartocciare si si prende una punta che combacia con l'altra punta e si accartoccia su se stessa su se stessa si fa per tutti per tutti questi fogli diciamo e il risultato è questo volendolo posso ancora modellare più più stretto più largo insomma comunque l'effetto è questo sembra un po una nuvola un fiore ad esempio se voi guardate quest'angolo e lì c'è quel quadro rosso che è una rosa cioè c'è quel quadro con una rosa rossa se guardate il lampadario ha qualcosa di familiare con il fiore quindi può sembrare una nuvola sospesa può sembrare un fiore gigante ragazze comunque per farla breve a me piacciono tantissimo e sono contentissima appunto di averli comprati e che quel santo di mio marito me li ha montati quando li ho presi all'ikea si è arrabbiato se ne è andato è uscito dall'ikea ma ha detto trovati qualcuno che te li monta perché io non te li monto ma io siccome io sono tosta io li ho comprati lo stesso ragazze se non li avesse montati lui avrei cercato un ragazzo un qualcuno appunto che sapeva fare queste cose le avrei pagato non non c'è nessun problema ok qua ci sono i tulipani che ho comprato stamattina che sono completamente chiusi stamattina vedendo un po il gambo che c'ha qualcosa forse di rosa e mi sono illusa che posso che possano essere rosa ora invece qualcosa mi dice che sono gialli ma comunque va bene lo stesso bianchi gialli rosa i tulipani sono tutti belli mi piacciono di tutti i colori poi c'ho questi questi qua questi mi pare che risalgono non mi ricordo più se a lunedì o a venerdì scorso guardate che belli anche questi e niente ragazze quindi ora chiudo mi sono passata lo straccio in cucina e in bagno sempre serranda abbassata perché ho paura per maia e ragazze non credete che io stasera mi faccia mai al forno è per carità io scherzo naturalmente figuratevi a bimba mio è vero anche perché la faccio stare tranquillamente sul divano pazienza quando sporca io lavo e che ci posso fare ok ragazze vi saluto diciamo che un po tutti gli obiettivi miei sono stati raggiunti e sono stati completati domani ora mi devo fare tutti i vetri domani è sabato il cambio lenzuola voglio fare tutti i vetri e poi un altro lavoro che ho da fare è quello di sistemare i balconi sistemare i balconi togliere tutte le erbacce dalle piante pulirli bene insomma questo è un altro lavoro vediamo la prossima settimana se è a piccoli step appunto li posso fare ok ragazzi ora mi vado a sedere su questo questo divano e mi vado a riposare un poco noi ci vediamo domani mattina per le pulizie del sabato però Grazie a tutti.